Buongiorno 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 e la provincia, Antonio, che riscaldano tutto, Antonello. Per chi è questo? Il piperio da Giorgio, guarda che bello. Tutto il tuo vuole, si sta ruba. Capito? E quando il pellegrino si trova a passare di là, non sa mai che ha seguito l'ultimo migliazioni. Grazie, grazie mille. C'è scritto anche a Radio Presque. Armandino, più dentro invece cosa ci sarà? Questa forma che cos'è? Ma gli speriamo a tracce. E ci si ha cerrato un cd. E' una musica, Furious. Eccolo qua. Eccolo qua. Grazie. E' l'ultimo del mentale di Ripopra. Alma Tiger, grazie. I vostri sms 340. Oh, là che i pacchi si aprono, la piccola principessa. Ma che i pacchi si fanno, ma? O che li fa lì, se che li sa parla. Ma ciò non vince. E' un piccolo appare il giorno, lì. Ho avuto chi mi ha avuto a dare. Io ho dei bambini, tutti i bambini, se volete trattare i giorni, questo uomo. Così normale. Anche io, i miei giornali, insomma. Guardate, ma ho un ufficio stampa, veramente, che lei riguarda e mi fa la pippa. Fumata bene a parlarci, bescovo. La guerra di successo. Anche noi, l'austronimice, insomma. Passala. E' stettino, c'è un competizione. È un competito. Vamo da riprenditi, tra terrestri. Donate la graccheremo, fitto. Punici una valvola da dentro. Allora, Pinto, perché non fai questo annuncio? Tutti quelli che si chiamano Jeff si alzino e salutano la ponte. Che non fa amato, ma se vengo a scopo graziato, sta sicuro che non la farò. La vendetta sarà fatta con tre bambini. Ma cosa bella? E' la domenica è minuto. E' la domenica è migliorata, sentato, da questo momento in poi. Le basi, le basi, le basi, le basi, le basi, le basi. Le basi, le basi, le basi. C'è anche il caviale di mamma arranca, ci dice, black machine woman. Una uova di topo. Cioè, ti abbiamo riconosciuto. Scappa, dice, a capa d'ora. Questo freddo mi fa declamare una poesia. I pinguini che a volgheri alti schietti va da Sanduri in duplice filare. Era così, vero? Saluti da Franco Poeta. Sapete che Bingu ultimamente si è trovato molto solo e stiamo cercando il richiamo esatto per far uscire Bingu dal suo stato di tetra melancolia. Avete mai desiderato, ascoltando Buongiorno Cagliari, di dire anche voi Mungu? È l'occasione. Allora, vediamo se lo sanno in vitae. Fagli uno forte. Un attimo. Vediamo se al mio treno sapete che fare. Uno, due, tre. È l'unica trasmissione al mondo che fa fare Mungu. Elio, ci fai sentire il DJ di piazza di chiesa e allora ci vuole il brano adatto. Vai con il brano, mettate. Mungu, mettate. Ma ben tanto, tu che cosa deve essere un uomo da Pia Domino, accendenti. Radio piazza di chiesa, schierando da Piuccia, la gratine, il freddo, o per sta terra. E non c'è il solto della lettera, c'è sul fuoco da sferlo perché è un radio piazza di chiesa di aria all'anima. MIGCIA DI CONSORTI ACRARIDI! Ci sono 58.000 ricoveri inappropriati su 300.000. Ma nonostante questo, alla De Francisci, nessuno ancora li ha cercato nessuno. Come mai? Cioè, nonostante sia... Ehm... Quindi tu dici che... Armandino, non lo so, non lo so, non lo so. Ma forse sì... Cioè, la domanda vera da fare è... Com'è te mai? Tu i venti a te voli alzare questa merda per correre quei venti metri da qui alla porta e entrare dentro la tua manica? Chi ne ha fatto questa manica? No! Potete riconoscere la donna? E anziché essere riconoscente a parte su spirituoso. Come mai? Tu hai la convinzione di entrare in macchina e come ti gira dalla chiave nel quadro la macchina pone il mutuo e non innesca un altro meccanismo. Chieditelo! Grazie! E arri, arri! E conosci la storia della mia casa, no? Che ovvero che a mia terra arriventi aici fa il sorriso triste? Sì, sì. Buona amica! Allora, devo inviare le danze alle sanfate, coraggio! Partite dal fondo, eh, che un anno qui poi, oltre la quinta fila, non arriva nulla. da quanti giorni è che non mangiavate? E' impressionante! veramente! E' gentile di arenoso! Sembra la distribuzione della frutta esotica durante il governo Brezhnev. Oltre a tutti! Papà Rocco presente con famiglia, adesso vi scatenò le due piccole bestie.